Un incontro è già fissato per il 31 gennaio e consentirà di chiudere a Vigliano e Piellese la questione relativa alla gestione dell'asilo nido comunale. I servizi di pulizia e cuciera erano già stati affidati all'esterno. Ma ora, per il comune di Vigliano, il costo del servizio, che pesa per 300.000 euro all'anno, è diventato insostenibile. Le rette dei 24 bambini iscritti coprono al massimo 50.000 euro. Ogni iscritto costa 1.030 euro al mese e la retta più alta è 410 euro, ma sono in pochi pagarla, perché la maggioranza degli iscritti paga 200 euro. E mentre il comune sta già predisponendo l'IT per il bando di ricerca del nuovo gestore, i sindacati hanno messo sul tavolo una controproposta riguardo al futuro delle due educatrici e della coordinatrice part-time. Alle educatrici il comune avrebbe proposto di rimanere il nido alle dipendenze della cooperativa o di chi si aggiusticherà la gestione del servizio, oppure rimanere alle dipendenze comunali ed essere ricollocate per ricoprire altri ruoli. Per Cristina Martiner della CGL, se il comune vuole garantire alle educatrici di poter continuare a lavorare al nido, l'unica strada sarebbe quella del distacco funzionale, ovvero rimanere dipendenti comunali, quindi con tutte le tutele conquistate dopo aver partecipato ad un concorso pubblico, pur lavorando per il gestore privato. E questo è stato ottenuto, per esempio, per il nido di Gaglianico. In questo modo le dipendenti potrebbero vigilare sulla qualità del servizio e garantire continuità alle famiglie.